Il battesimo è la strada maestra per realizzare pienamente il nostro desiderio più recondito, più nascosto, forse nemmeno siamo consapevoli pienamente di questo, la possibilità cioè di raggiungere gli obiettivi più grandi, più alti, più nobili, quelli che danno senso e pienezza alla nostra vita presente e alla nostra vita futura, quella che sarà dopo che il nostro corpo mortale verrà risvegliato dalle tombe per risorgere insieme con Cristo a vita nuova. E allora auguri a tutti fratelli e sorelle, la forza del battesimo sia davvero la luce che illumina quotidianamente la nostra vita e chiediamo l'intercessione della Vergine Santa, qui la veneriamo con il titolo delle grazie, invochiamo questa grazia perché possiamo anche noi percorrere fino in fondo la strada della perfezione, la strada della santità che porta alla comunione eterna nella famiglia trinitaria. Così speriamo e così sia.